Molto rapidamente, soddisfatto le parole dell'assessore, sì, se la possiamo votare con l'emendamento rimuovendo esattamente il punto numero, così dico anche qual è il punto, agli impegni. Assessore, il punto numero due agli impegni, quindi spungiamo questo punto e votiamo il resto. L'assessore è d'accordo, la maggioranza è d'accordo. Passiamo alla votazione. Chi è a favore con la modifica, come adesso è espressa dal Consigliere Cirillo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, con l'astenzione del centrodestra e con la collega Muscarai e i Cinque Stelle, la mozione è approvata.